buon pomeriggio a tutti ragazzi allora parliamo di antonio conte e questa presunta pallottola che è arrivata ragazzi la pallottola è arrivata non per antonio conte ma per la società in tanti hanno anche i giornali hanno detto che è stata una pallotta per per antonio conte ho letto su spetta che giornaliera il corriere mi pare poi la gazzetta dicendo che a conte che hanno mandato un proiettile e c'è stata solo subito dalla smentita della moglie dicendo che il proiettile e indirizzato alla società allora io dico una cosa che sia vera o che che non sia vera questa cosa qui è grave nel senso che ho a conte o alla società queste cose non dovrebbero accadere anche perché ragazzi arrivare a questo nel mondo del calcio cioè già la vita di tutti i giorni è complicata poi se arriviamo alle minacce per una squadra cioè che sia l'inter che sia il milan che sarà juve che sia qualsiasi altra squadra non si fa ma non perché lo dico io perché tu vai a minacciare delle persone che stanno facendo il loro lavoro cioè posso capire che c'è uno che non so ha avuto problemi con la società attenzione di fargliela pagare ma non sono questi modi ok e non lo so c'è anche i giornali che hanno dato importanza a queste cose che infatti va poi la moglie di conte ha smentito subito la notizia e non capisco perché sia la gazzetta che il corriere non hanno tolto l'articolo e ovviamente essendo che il campionato non c'è c'è stata la pazienza della nazionale ma niente più non sanno cosa scrivere e allora il pretesto per venirci contro quando io dicevo che i giornali purtroppo ci vengono sempre conto questo è andato di fatto perché comunque adesso parliamo di campo dell'inter fa paura cioè parliamoci chiaro in tutti questi anni la juve ha vinto scudetti tranquillamente senza avversari sì c'è stato un paio d'anni in napoli e la roma ma ma non sono squadre che arrivano fino alla fine per vincere il campionato poi lasciamo stare aiuti o non aiuti però come organico come come mentre mentre tra vincente peccano un po ok soprattutto in napoli per quando poteva vincere il campionato non ha investito a gennaio e si sono ritrovati al secondo posto quel quando quel campionato di dell'anno di sarli era era meritato però purtroppo è successo quello che è successo un po per comprare un po per il fatto di intervento però vabbè quello è il nesso capite che queste cose qui sono brutte sono brutte perché io io trovo che arrivare a un discorso di morte perché comunque certo tu con quel proiettile hai fatto una minaccia ok adesso non so a chi dei zanni o comunque se al figlio oppure al padre non lo so o qualcuno dell'indilligenza però al vergognoso cioè io non capisco cioè una cosa che fa riflettere perché arrivare a questo per una passione perché ricaccia una passione l'inter è una passione e la squadra che sceglie da piccolino io dico l'inter come può essere il milano la juve o qualsiasi altra squadra che che si decide di tenere e sostenere però c'è vergogna cioè io io non so arrivare a questo dopo con tutti i problemi che ci sono guardiamo anche l'italia in generale che è immersa dall'acqua i temporali e la gente va a pensare a mandare una pallota alla società cioè dai fai ridere c'è chi chi lama data secondo il mio punto di vista fa ridere stop non ci sono altri argomenti tutto lì e parlando da un attimo della nazionale ho visto una grande nazionale mancini sta facendo un grandissimo lavoro 10 partite 10 vittorie nuovo record della nazionale a differenza di ventura che lasciamo lasciamo stare era meglio che stava a casa con i nipoti invece di farci fare una figura da gioccolataio in questa nazionale che poteva anche andare avanti nel senso che già io io ho pensato un'avventura è uno che con quelli giovani ci sa fare è però che ho visto la zona di ventura mamma mia ho visto gli incubi perciò merito a mancini merito a queste dieci vittorie anche con la posta non era facile giocare perché comunque essendo già qualificati potrebbe andare sotto gamba l'italia non ha preso sotto gamba questa partita ha vinto 3 a 0 in modo meritato e niente questo è poi volevo dire una cosa semplice io ho guardato prima il video di luca nero azzurro ha detto una news di mercato che sinceramente io questo giocatore non l'ho mai visto e non ho mai sentito nominare non mi ricordo il nome è un giocatore che gioca in bundesliga nell'hamburgo se non mi sbaglio a 19 anni non mi ricordo ungherese io sinceramente ho scritto sotto al commento di cioè i commenti e arriva un fenomeno dice l'ignoranza qualcosa del genere cioè ragazzi ma uno può vivere 364 giorni all'anno di di calcio andare a vedere tutti i giocatori no credo credo che ognuno abbia una vita credo che ognuno oltre a calcio ha altri pensieri ha altre cose da fare perciò rispondo un attimo a quella ragazzo che ha scritto quella cazzata ok e parlando un attimo di mercato ragazzi io so che depolo oramai nell'azzurro sinceramente non mi fa impazzire però se può aiutare il centrocampo dell'inter che ben venga si parlava di qua me ma qua me oramai la stagione finita perché si è fortunato come si è fortunato mertens perciò bisogna vedere un po di vedere per quanto ne ha mertens io sinceramente se se devo prenderlo lo prendo a giugno parametro zero al posto di sanchez perché comunque ti devi un stipendio importante come quello di sanchez e ti vuoi prendere un parametro zero a gennaio si fanno i nomi di giro sembra che sia fatta sapete che io tentenno nel senso non vedo giro come non dico un top player però non so con l'attaccante che è messo lì non so io sapete come la penso io avrei pensato più a un giocatore che già gioca la serie a e non giro mi fido di conte e va bene così detto questo insomma abbiamo parlato un po di tutto e ragazzi io ripeto la storia di conte e della società è vergognoso che oramai nel 2020 si arriva a questo perché comunque non non puoi mandare delle pallottole non puoi minacciare poi per cosa c'è nel senso il senso perché perché sei juventino faccio un esempio ovviamente non c'è lo scone di juventino o milanisti o romani o naziali insomma cioè se tu hai un tifo diverso ok oppure che magari è interista proprio lui non lo so però io credo che il tuo gesto è da insomma è da manette perché insomma come la vedo io nel senso sicuramente questa persona ha dei figli ha alla famiglia ha tutto ok e mandare un proiettile per cosa sapendo che c'è chi chi lavora nel mondo del calcio anche loro sono sposati hanno famiglia e tutto quanto perché che senso ha però dico a voi lasciatela ai commentati iscrivetevi al canale e sempre a forza inter mi raccomando testa al torino sabato sera che spero di vincere ciao